Edoardo Zardini, il leader a Artesina. Siamo a 10 secondi dal secondo, quindi possiamo dire tranquillamente che dovresti aver già quasi vinto il giro. Il ciclismo non è matematica e domani c'è l'ultima tappa, quindi fino sotto la linea d'arrivo non si è vinto. Certo è che ci proveremo perché sarebbe veramente una grandissima cosa. E spiegami un po', come sei impostato stamattina alla partenza e come hai fatto la corsa? Beh, noi avevamo la maglia di leader con Vilella, quindi io non è che potevo provarci di prima persona perché insomma la maglia non si attacca mai. Quindi io ho teso la salita, ognuno si giocava le proprie carte. Io ho seguito gli attacchi di Buongiorno e Benedetti, ho visto che le gambe c'erano e diciamo che mi sono fatto portare all'arrivo. Io bastava che arrivassi con loro, prendevo la maglia e quindi la strategia era questa. Insomma, volevamo tenere la maglia perché insomma è prestigioso. Mi dispiace per la vittoria, però io non sono veloce e devo arrivare da solo per vincere. Non sei veloce, però sei leader di classifica. Sì, sì, per me è una grandissima soddisfazione. Oggi diciamo che puntavo veramente a quello. C'era una salita adatta alle mie caratteristiche, veramente impegnativa, che se ne fanno poche durante l'anno. Quindi complimenti agli organizzatori perché queste sono le vere gare. Ti ringrazio Edoardo, grazie mille di tutto. Grazie mille di tutto.